E questo è molto utile al governo regionale, quindi i corpi intermedi svolgono una funzione essenziale E saranno un consiglio da sinistra Emiliano, le sta dicendo Buongiorno, sono Gian Paolo Bernasconi, oggi ero 8 mezzo 2016 Volevo dire che io ho criticato la classica Cosmopolite su Milaneo in relazione al discorso del Grattacioni Credit Comunque c'è stato un articolo su Project Syndicate di questo economista che ha criticato la classe Cosmopolite E questo articolo lo potete trovare, un articolo di Robert Schiller sulla classe Cosmopolite su Project Syndicate Quindi vuol dire che se Robert Schiller, che è un economista moderato, critica la classe Cosmopolite Perché c'è un problema relativo alla classe Cosmopolite Poi volevo dire che io ho 46 anni e sono vecchio E quindi nei miei confronti, diciamo come dice Nillian, the damage is done Nel senso che io ho passato il periodo dal 1994 ad oggi a fare politica a vantaggio di persone che neanche conosco Cioè persone pagate per fare politica che manco conosco Grazie, arrivederci